Esplode una stazione di rifornimento nel Dagestan, decine i morti e più di cento i feriti pompieri al lavoro per spegnere un vasto incendio. Crollo del rublo, inflazione in crescita, la banca centrale russa opera un netto rialzo dei tassi dall'8,5 al 12%. Quarta incriminazione per Donald Trump, rinviato a giudizio ad Atlanta per aver tentato di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. L'OMS sull'attente a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 e della nuova variante di Omicron, EG5. L'avvertimento ai paesi, non smantellate la sorveglianza. Sono passati due anni dal ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, crescono i bisogni umanitari e preoccupa sempre più il trattamento riservato alle donne. È di almeno 35 morti il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento a Makachkala. Città russa situata sul Mar Caspio e capitale della Repubblica del Dagestan. I feriti, secondo quanto indicato dal Ministero degli Interni, dagestano, sarebbero circa 60. Soltare in aria sono stati due degli otto serbatoi della stazione e c'è il rischio che possa prodursi un'ulteriore deflagrazione. Nella zona si è sviluppato un vasto incendio che copre un'area di almeno 600 metri quadrati e interessa anche alcuni edifici residenziali. La Banca Centrale Russa ha deciso di operare un netto rialzo dei tassi di interesse portandoli dall'8,5 al 12%. La manovra era nell'aria. Una riunione straordinaria del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Centrale era stata annunciata dopo che il rublo aveva subito forti ribassi nelle scorse settimane. A pesare sulla decisione della Banca Centrale è stata inoltre la volontà di tentare di arginare l'inflazione, come precisato dagli stessi membri del CdA in un comunicato diffuso al termine della riunione. La pressione sui prezzi ha raggiunto lo scorso 7 agosto il 4,4% su base annua. Lo stesso istituto ha precisato che si riserva di assumere ulteriori decisioni nelle prossime settimane in funzione dell'andamento dei prezzi e delle reazioni dei mercati finanziari. I vigili del fuoco stanno tentando di circoscrivere un incendio divampato in un mercato della Repubblica Dominicana, mentre decine di persone sono state obbligate ad abbandonare la zona per il rischio di crolli degli edifici circostanti. A far divampare il ruogo è stata una potente esplosione che ha scosso l'aria, uccidendo almeno tre persone e ferendone oltre 30. La deflagrazione è avvenuta all'interno di un panificio nella città di San Cristobal, a ovest della capitale Santo Domingo. In fiamme anche due negozi adiacenti e alcune auto in sosta nelle vicinanze. Quarta incriminazione per Donald Trump. Il gran giurì della Georgia ha rinviato a giudizio l'ex presidente degli Stati Uniti e 18 suoi affiliati per aver tentato di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 nello Stato, i cui voti erano decisivi. A Trump sono contestati 13 capi di imputazione, tra cui la violazione della legge Rico su estorsione e cospirazione, che generalmente si applica alla criminalità organizzata. Every individual charge in the indictment is charged with one count of violating Georgia's Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 21. L'indagine è partita dalla registrazione di una telefonata in cui Trump chiede a un alto funzionario locale di trovare 12.000 voti necessari per aggiudicarsi lo Stato. La procuratrice Fanny Willis ha dato agli imputati tempo fino al 25 agosto per consegnarsi volontariamente. Le pene vanno dai 5 ai 20 anni di carcere. Il caso questa volta non è federale ma statale, il che è di notevole importanza. Se Trump venisse condannato non avrebbe la possibilità di autoconcedersi la grazia se venisse rieletto presidente. Una nuova variante del Covid-19 mette sull'attenti l'Organizzazione Mondiale della Sanità che chiede ai paesi di non smantellare le proprie misure di sorveglianza. I dati analizzati dall'organismo sanitario mostrano infatti un aumento dell'80% dei casi dal 10 luglio al 6 agosto anche a causa della nuova mutazione di Omicron, EG5. L'OMS sta monitorando la variante da luglio e G5 ha effetti simili a Omicron ma ha un tasso di crescita maggiore, il che significa che è più trasmissibile. Non aiuta il caldo estremo che porta le persone a rifugiarsi nei posti chiusi per stare al fresco. L'OMS prevede che la variante possa diventare dominante anche se non ci sono indicazioni precise sul numero di infezioni o reinfezioni e solo la metà dei paesi del mondo sta segnalando casi in questo momento. Lunedì una giudice del Montana ha dato ragione ad alcuni giovani attivisti ambientalisti che hanno portato a processo le agenzie statali, accusate di aver violato il loro diritto costituzionale a un ambiente pulito e salubre permettendo lo sviluppo di combustibili fossili senza considerarne gli effetti sul clima. È il primo processo del genere negli Stati Uniti. Gli avvocati dei 16 querelanti hanno presentato prove di come l'aumento delle emissioni di anidride carbonica stia provocando temperature più calde, maggiore siccità e incendi e una diminuzione del manto nevoso. Secondo gli esperti chiamati in causa, questi cambiamenti stanno danneggiando la salute fisica e mentale dei giovani. Sono passati due anni da quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan e le necessità umanitarie a livello nazionale non fanno che aumentare. A mancare sono soprattutto i finanziamenti senza i quali è impossibile garantire alla popolazione il sostegno di cui avrebbe bisogno. We speak about 28.8 million in needs in Afghanistan and also 60% more than 2021 and now the highest level of need in the world. The main problem currently is the funding. So what we really need in addition to just the humanitarian assistance, we need to have development assistance and long-term engagement to be able to set the economy of Afghanistan on the right way. Le Nazioni Unite sono inoltre sempre più preoccupate per le condizioni delle donne in Afghanistan. Il numero di vittime di violenze sessuali, psicologiche, economiche e amministrative non fa che aumentare. Alle donne è stata limitata la libertà di movimento, non sono autorizzate a studiare e non possono lavorare neppure per le organizzazioni umanitarie, il che sta rendendo ancora più complessi gli sforzi per portare sostegno alla popolazione. Quella presente in Afghanistan è la più grave crisi umanitaria del pianeta, per questo le organizzazioni non governative hanno lanciato più riprese appelli alla comunità internazionale affinché la popolazione di questo paese non venga dimenticata. La Open Society Foundations di George Soros sta abbandonando l'Europa. La società del magnate americano di origine ungherese, molto attiva nel sociale, ha deciso di ridurre al minimo il budget europeo. Il motivo? L'Unione Europea e gli stessi stati membri investono già molto denaro a favore dei diritti umani e contro discriminazione e diversità sociali, per cui l'ente benefico di Soros può dedicarsi ad altre zone del mondo più bisognose. Molte ONG hanno ricevuto una lettera per spiegare la decisione del disimpegno. Le risorse dell'Open Society Questi foundations, destinate all'Unione Europea, saranno spese in altre parti del mondo già a partire dal 2024. Ogni pianta ha una targhetta, ogni nome un proprietario ansioso di ritrovare in salute le sue compagne di casa al ritorno dalle vacanze. Spesso gli animali domestici sono un problema per chi va in vacanza e allora interviene il dog sitter o anche il cat sitter. Ma per molti risulta difficile lasciare anche le proprie piante incustodite per due o tre settimane. Estate, tempo di vacanza e per chi ha il pollice verde arriva il momento di affidare le amate piante ad amici o vicini di casa. Ma le brutte sorprese non sono rare al ritorno e quindi meglio rivolgersi a un professionista. Enrico è un giovane agronomo di Bologna che ha trasformato la sua passione di bambino in un lavoro e nel periodo estivo diventa un esperto e apprezzato plant sitter. Le piante che ho qui in pensione le tratto come le altre mie. Quindi do fertilizzanti specifici, do prodotti specifici, do prodotti per la difesa che sono prodotti biologici e uso anche degli insetti predatori per mangiare i più comuni parassiti delle piante. In questo periodo il terrazzo e la casa di Enrico ospitano fino a 350 piante di 50 clienti diversi, ognuna con la propria traghetta e le proprie esigenze. Ogni pianta richiede una particolare esposizione alla luce, nutrienti, acqua, potatura e spesso piante arrivate in cattivo stato vanno via completamente rivitalizzate. Una ragazza mi portò un basilico veramente molto brutto. Allora le dissi, guarda, quando le vieni a riprendere non lo riconoscerai più. Allora dopo quando ho fatto questa prova qui, quando è venuta a riprendere ho detto va bene, ok, ora vai a prenderti il tuo basilico, le tue piante, non le ha riconosciute. In media ogni cliente di Enrico arriva con circa 10 piante, ma alcuni anche con 40 o 50. Le richieste continuano ad arrivare, ma non c'è più posto nell'albergo a 5 stelle delle piante. L'anno prossimo servirà più spazio. Luca Palamara per Aeronews, Bologna